Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Due minuti due, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con due minuti due da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Continuano le alte temperature nella politica locale, dove una griglia per la composizione delle commissioni consiglieri permanenti ha fatto saltare il coperchio dalle pendole del malumore che covava da diverso tempo. Perciò riunioni a catena di maggioranza di opposizione, dichiarazioni di vari tipi, toni molto accesi, chat bollenti. Quante energie è spesa per nulla? Quanto tempo è impiegato in vano? Un bel giro per la città sarebbe stato sicuramente più proficuo dello stare rinchiusi nelle stanze della politica, perché basta andare fuori dal palazzo, basta girare per la città velocemente per capire quanto disastro c'è, per capire a quante manchevolezze bisogna porre il rimedio, quante cose mancano ancora per diventare una città normale. È una politica distante dalla gente, quella che spreca tempo e risorse a fare le guerre interne. È una politica noiosa e improduttiva che guarda dentro di sé, dimenticandosi che il suo compito è agire al di fuori del palazzo, agire per quel bene comune di cui si è persa facilmente memoria. Al prossimo appuntamento. Due minuti due, fatti e commenti in centoventi secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Due minuti due, nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express La farmacia Pinta Audi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pinta Audi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pinta Audi è dermocosmesi, con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyCli. La farmacia Pinta Audi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali, li trovi alla farmacia Pinta Audi. Farmacia Pinta Audi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla farmacia Pinta Audi c'è il servizio Chiedi, Invia e Ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 1895 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 1161. La farmacia Pinta Audi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pinta Audi, via Verga 104, Gela. Medi Group Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medi Group Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medi Group Construction, via Venezia 372, Gela.